Parliamo ora di lavoro. Quali sono le competenze e le professionalità più richieste dalle aziende abruzzesi? Sta tutto scritto in un'indagine presentata nel pomeriggio nella sede di Confindustria Medio Adriatico a Pescara. Ne parliamo in studio con Alessandro Addari, al quale do il benvenuto, che è il vicepresidente dell'organizzazione. Addari, vediamo tutti dalle sue labbra quali sono queste competenze e soprattutto le aziende di chi e di che cosa hanno bisogno. Assolutamente un dato che emerge con chiarezza è che le aziende richiedono competenze trasversali oltre a quelle tecniche. Tant'è che le prime competenze richieste sono proprio l'organizzazione dei risultati, cioè la capacità di essere determinati, di impegnarsi. Al secondo posto la capacità di risolvere le problematiche che poi intervengono nelle nostre aziende. E poi al terzo c'è comunque anche l'attività di pianificazione, di organizzazione delle attività. Solo al quarto posto da quest'indagine emerge una delle competenze tecniche, cioè la capacità di avere dimistichezza con le strumentazioni tecniche. Andando più a semplificare, però uno dice il profilo, non so, faccio l'ingegnere, faccio l'avvocato, sono laureato in qualcosa di importante o meno. Ecco, che cosa viene richiesto? In termini, perché è interessante che questa ricerca, che vede ad ecco coinvolta insieme a Confindustria Abruzzo, piccola industria, ci sono delle figure appunto che le aziende hanno dichiarato di voler assumere nei prossimi 12 mesi. Al primo posto, sia su queste, sia a quelle in prospettiva, c'è la funzione commerciale vendita, che è un po' anticiclica, perché in qualche modo riguarda un po' tutti i cicli economici. Al secondo posto c'è un discorso anche legato al magazzino, alla logistica, ai trasporti. Al terzo posto, appunto, il personale specializzato, quindi ingegneri, la ricerca e sviluppo, tutta la parte anche più tecnica. Abbiamo 20 secondi, dottor Addari, nei prossimi mesi già ha fatto capire che qualcosa potrebbe succedere, chi assumerà di più? Allora, in termini anche di professioni, in quelle di prospettiva, quindi dopo i 12 mesi, al secondo posto troviamo proprio gli ingegneri, al terzo anche il software, anche la parte legata ai sistemi digitali. Piccole e medie aziende o grandi aziende? È interessante vedere che il 10% del contributo di chi ha risposto proviene dalle piccole industrie, piccole imprese, con una buona parte dei servizi, oltre il 7%. Grazie al dottor Addari, noi andiamo avanti con il...